Un intero quartiere ostaggio di un ignoto piromane che in un paio di settimane ha già compiuto una decina di attentati incendiari. Siamo a Fontanelle, alla periferia ovest di Pescara. Qui c'è poca voglia di parlare, di apparire, piuttosto di agire per interrompere questa perversa catena. Decine di posti di blocco tra Polizia Municipale, Carabinieri Polizia e arronde notturne da giorni non hanno scoraggiato l'ignoto. Alcune descrizioni parlano di un ragazzo vestito di nero che solo due giorni fa si è fatto notare dando alle fiamme uno scooter. Alla ronda di ieri sera hanno partecipato anche alcuni politici locali, in solidarietà alla popolazione del quartiere. Tra questi il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Sono stato costretto ad annunciare questi punti di osservazione mobili che ripeteremo anche nei prossimi giorni. Qualcuno li chiama ronde. Bene, sono stato costretto ad annunciare questo per farci ascoltare dall'istituzione. Perché è un messaggio che noi stiamo lanciando alle istituzioni preposte al controllo del territorio e soprattutto anche al sindaco. Perché noi non ci vogliamo sostituire alle forze di polizia, ci mancherebbe altro. Ma il nostro messaggio richiesta disperata è quella di dire ascoltateci. È arrivato il momento che dovete istituire una pattuglia fissa H24, anche coadiuato dall'operazione strade sicure e dall'esercito, per ripristinare la legalità e la sicurezza in questo quartiere e soprattutto per fare stare tranquilli i cittadini. Questo è il massimo che io posso fare e che noi possiamo fare. Ci auguriamo che qualcuno ci ascolti questa volta. Ed intanto, durante la ronda tra i palazzi di Fontanella, un'inattesa alleanza con la nutrita comunità Rom, in passato in forte contrasto con i residenti, ma al loro fianco in questa battaglia. Non vogliono essere ripresi dalle telecamere, non vogliono rilasciare interviste. Ma anche loro, ci dicono, sono vittima di questa assurda situazione. Giorni fa un loro motorino è stato bruciato e nella palazzina, dove è stato dato alle fiamme il contatore della luce, creando un grave pericolo per i condomini, tra questi anche numerose famiglie Roma, anche con bambini piccoli. Speriamo che arrivino a prenderlo per prima le forze dell'ordine, ci dicono a microfoni spenti, perché se lo prendiamo noi. Ed intanto, le indagini proseguono sulla base di alcune immagini non nitidissime, colte dalle telecamere di videosorveglianza. Non esclusa nessuna pista, anche se al momento prevale quella legata allo squilibrato. O in seconda battuta, un piano per destabilizzare una delle più note piazze di spaccio della città da parte di qualche gruppo malavitoso concorrente. Io so che si stanno facendo indagini, massimo rispetto per la magistratura inquirente che sta indagando, ma i cittadini hanno bisogno di una misura di sicurezza immediata, che va al di là delle indagini, sono due rette parallele, due strade parallele, le indagini hanno dei corsi anche a volte lunghi, contestualmente deve essere attivata una misura che possa garantire la sicurezza dei cittadini, che sono cose diverse.